oh ragazzi buon godotay e bentornati incredibili in quello che dovrebbe essere incredibile il quarto capitolo di dark deception incredibile per me per adesso il livello delle paparelle e dei clown sono in assoluto dei livelli più divertenti più spicy di tutto dark deception però magari con questo capitolo nuovo che iniziamo oggi il primo livello mi stupisce talmente tanto che sorpassa sia i clown che le paparelle voi lo saprete io non lo so lo scopriremo adesso incredibile siamo a metà strada e sono solo quattro pezzi da fare qui abbiamo potenzialo tutto abbiamo zero punti abilità va bene ci daranno un potere nuovo probabilmente si capitolo nuovo potere nuovo 3 2 1 ci buttiamo vai e ti pareva abbiamo bisogno di prendere quel frammento interno per aprire il cancio naturalmente dietro quelle assi allora se ci sbloccano un potere che ci permette di avere le gemmine senza che ci avviciniamo a loro sarebbe la cosa più rotta della vita a parte che si ricarica istantaneamente quindi con questo modo posso prenderle tutte in una botta ok ragazzi vediamo quant'è il range wow abbiamo già un inizio spicy torment therapy terapia tormentata non mi dica che siamo in un ospedale no ma io sono infermiere quelle ah ma i sottotitoli in questo chapter non ci sono proprio ah ragazzi mi spiace allora con tutti gli incubi che il nostro protagonista ha avuto il fatto che ci fosse un ospedale in questo gioco come dire era abbastanza scontato non sta bene il nostro protagonista ve lo dico eh secondo me questo potrebbe essere il mio livello preferito di dark deception per alcuni motivi molto particolari capitemi quando dico questa affermazione sus allora amici io direi di fare baldone ragazze belle qua eh signorine allora ragazzi pure io vorrei essere ricoverati in un ospedale così ma scusa ma ci sono i watch ma guardali ragazzi ma è una gran festa qui miglior capitoli di dark deception incredibile 10 su 10 eh ragazzi se non mi sentivo bene adesso mi sento benissimo questa è la vera storia di dark deception ragazzi molto bene ragazzi guardate io potrei pure sedermi qui ragazzi e finire il livello così però lo so che vi state arrabbiando tantissimo quindi devo andare avanti ragazzi con immenso sacrificio io vado avanti perché sarei rimasto qui tantissimo come loro immobili a guardarle ok allora se loro si arrabbiano con me adesso è perché sono andato via dallo spettacolo io ve lo dico eh ok ah conoscono pure i loro Beelze ok 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 ragazzi sta dicendo delle robe assurde ragazzi con calma poi vi spiego stavo dicendo delle cose importanti guarda dove devo firmare tutto bene signorina si è buggata credo si sia buggata ragazzi non è normale che si sia ingigantita e mi stia facendo vedere tutto allora ragazzi con calma il mio cervello sta impazzendo di godo e orrore allo stesso tempo questa tizia sta lavorando con Beelze e conosce Beelze e conosce anche Malak va bene e Beelze gli stava dicendo qualche cosa e lei ha detto si si tranquilla ce ne occupiamo noi poi ha attaccato il telefono ci ha visto a noi ha iniziato a dirci ah tu hai sofferto tanto benvenuti in un posto dove ti cureremo starei subito meglio poi ci ha detto che Beelze secondo questa tipa è cattiva dovremmo ridare l'anello a Malak che lui è buono che magari hanno pure ragione Beelze ci vuole trollare e poi ha detto hai fatto bene a venire qui da noi ti riprenderai più o meno ragazzi più o meno signorina però allora lei è molto bellina signorina però non mi deve fare questi jumpscare così io ve lo dico cioè ragazzi ma è un ospedale o è un localino sus per capirci signorine ragazzi sta per succedere qualcosa di brutto ve lo dico cioè tanto sono belline loro tanto a me succederà qualcosa di molto brutto ve lo dico il fatto che loro abbiano questo è il metodo di carta non promette bene ragazzi magari sotto sono degli insetti oppure degli ktulu cattivi comunque vedo che hanno speso i soldi per sto capitolo ma mi devo pesare e dov'è pesiamoci ci ha detto che ci dobbiamo pesare mi è arrivata una fiammata ci ho già provato a ammazzare col fuoco e siamo sopravvissuti va bene va bene ok pure ragazzi finirà male ha detto che dobbiamo fare un prelievo di sangue però via 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 ok dovevo immaginarlo va bene ok bello tutto bene signorina la porta si apre prima di andare io glielo dico ragazzi questo mi dà l'idea del livello più bello da vedere più spicy ma allo stesso tempo più buggato di tutti ve lo dico ragazzi è palese che mi vuole ammazzare questa tipa ve lo dico sì 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 allora dai scappiamo via 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 ok no no signorina signorina no 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 signorina ok scappiamo ragazzi è questa tipa fed by the woman after all allora si è arrabbiata che non ci stiamo facendo curare adesso ci vuole ammazzare bene si è arrabbiata tantissimo ragazzi ci sta dicendo che ci farà soffrire come delle bestie loro sono schierate con Malak cioè tutto questo era il pre-livello ragazzi capirai 337 aspetta ragazzi mamma mia sì ragazzi ma ci sono pure le porte da aprire così capirai e quanto ci metto ad aprire una porta mezz'ora allora io vi chiedo quanto funzionerà ahhh vabbè ma è fortissima l'abilità nuova ragazzi me ne ha presa tipo 50 mi ha infilzato con una mega siringa va bene con questa abilità certo che ragazzi faccio pure i livelli vecchi ragazzi guardate quanto è rotta l'abilità cioè ragazzi è di una potenza fuori di testa ragazzi fuori di testa signorina no 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 io vorrei scappare signorina non mi interessa ah siamo morti per il laser va bene vabbè ragazzi io vi ricordo che noi abbiamo il potere del checkpoint quindi va tutto bene ahhh va bene last checkpoint baby last checkpoint ok il trucco è correre e usare nei punti all'improvviso l'abilità e poi correre tantissimo proprio alla grande ragazzi si corre tantissimo via 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 le sento le sento le sento tantissimo troppo forti ragazzi troppo forti siamo già a 116 andiamo da questa parte va così completiamo via 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 ok via 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 andiamo andiamo da questa parte cioè questa se la potenziamo ragazzi è finita cioè ragazzi mi rendete molto quanto è rotta stabilità cioè ragazzi ci stiamo mettendo niente a fare sto livello niente calcolate ragazzi che per fare il livello dei clown io ci ho messo quasi un'ora io sto a un quarto del tempo e stiamo andando alla grande quindi quindi sinceramente sono stupito ragazzi ragazzi sto con l'abilità pronta appena ne vedo una ah ne ho vista una sussa laggiù mi tirano le medicine ma che carine bacon ecco fatto vinto con questa ci credo ragazzi che rifare i vecchi livelli è una cavolata ti potenzia al massimo questa non dico che li fai con esse però quasi ragazzi eh ah ma che bello che dobbiamo fare ma le posso stannare ah è vero questa è una cosa che non ho provato a fare scusami devo saltare sull'ambulanza ah devo usare il teleport certo vedi ragazzi che è buggato allora non so che è successo la macchina è andata agliata sola sono rimasto dietro dovevo salire sopra ragazzi però è successo qualcosa che non doveva succedere vabbè alte 342 ah bene molto bene ragazzi non c'è neanche la mappa bello c'è un infermiera gigante wow ragazzi ho parlato troppo presto mi sa prima perfetto senti Beers come ci urla ci ha detto che lo siamo tanto ragazzi velocissimi ok bene molto bene ma era necessario mettere questa parte pure e come faccio a fare sta parte proviamo a stannarle credo di averle stannate male ragazzi sono fortissimo ve lo dico ok ragazzi sono veramente tante ok spero mi abbia salvato da qui eh last checkpoint ragazzi allora ve lo dico sinceramente è il livello in cui sono morto di più in assoluto ma allo stesso tempo il livello che sto facendo con più velocità perché questa abilità è rotta quindi alla fine della fiera c'è per noi va bene amica mia eh questo è il livello vero ragazzi cioè laser motoseghe infermiere sexy ragazzi c'è tutto in questo livello hanno detto proprio lo buttiamo da fuori paradossalmente forse il trucco qui è stannarle invece di correre lo sai mi sa che questo è il trucco qua è fare così potrebbe essere questo il trucco ci vuole veramente tanta pazienza ragazzi siamo a 92 sto morendo un quantitativo di volte ma sono morti talmente veloci io vi faccio vedere ragazzi 85 cioè muori talmente velocemente ragazzi che fai un passetto e muori ne prendi 10 e muori ne prendi 10 e muori è molto veloce ragazzi ripeto ci sto mettendo sempre meno che il livello dei clown per quanto assurdo sia da dire l'unica becca di questo livello è che lui il gioco vorrebbe farti usare tutte le abilità insieme però c'è un piccolo problema che forse non hanno pensato quando tu usi un'abilità devi premere i pulsanti ma tu non li puoi premere se sei in movimento questo è un peccato capito? quindi è un po' susso come cosa amici ah qui ho fatto un bel bottino prendiamo il più possibile ok qua ne abbiamo prese parecchie il gioco vorrebbe che tu switchi in continuazione l'abilità ma purtroppo quando tu corri o cammini guardate se io premo i tasti vedi che non me le fa cambiare le abilità questo è un peccato se loro ammettevano che anche quando corri e muovi premendo 1,2,3 cambi le abilità potrebbe essere simpatico ma in questo modo è un po' susso perché se adesso avessi voluto mettere il teletrasporto non lo potevo fare perché era in movimento in movimento non puoi cambiare le abilità sul pad questa è un po' una cazzata però a parte questo ragazzi ripeto si vede che forse è un livello per fare un po' più rage quittare la gente perché ti spawnano davanti dovresti avere l'abilità a quell'altra per stannarle ma se fai quello perdi perché non hai tempo di reagire quindi non lo so ragazzi è un po' susso ti deve dire un po' fortuna diciamo ok qua siamo stati un po' fortunati perché si è incastrata male ok 20 ah che carino le ultime due botte stanno andando meglio del previsto ragazzi ne stiamo prendendo parecchie ripeto se non avevamo l'abilità del risucchio di gemmine non c'è la speranza proprio quindi hanno pensato facciamo così diamogli un'abilità veramente rotta però rendiamo il livello 100.000 volte più aggressivo secondo me hanno ragionato in questo modo può anche funzionare dalla parte però come dire è un po' susso ragazzi mettiamola così qua devi stare fortunato qui siamo morti prima siamo stati fortunati in questo punto perché lei si era incastrata dietro adesso no ce ne mancano 19 ragazzi ce la faremo ok ok ce ne mancano tre che non ho assolutamente idea dove siamo ragazzi ragazzi l'ho capito dovevo salire al piano di sopra ragazzi ecco dove sono le ultime tre ragazzi sono morto tipo sette volte inutilmente perché non avevo capito che bastava salire al piano di sopra però va bene abbiamo vinto ragazzi ragazzi ce l'abbiamo fatta no time get to the ring piece get to the ring piece oh segretino incredibile daie segreto daie beh questa era facile intuirla allora la prima parte dice come se questo paziente X sta ricevendo terapia e pillole in più che non gli servirebbero per il malanno che ha possibile che è riferita a quella bambina agata dell'altra che abbiamo trovato nel segreto telefonico le paperelle che per lì si parlava di clinica psichiatrica che infatti tra l'altro fa una battuta sull'aspetto femminile quindi il motivo per il quale le infermiere sono coperte e per non far vedere l'aspetto femminile di queste infermiere potrebbe essere potrebbe esserci qualsiasi cosa all'interno di quelle pillole non lo sapremo mai ok quindi questo secondo me è un riferimento sempre a quella tipa dell'altra volta poi dice per schifo Mr. Hauser no mi sa non è la stessa allora due o tre volte al giorno devo capire ragazzi se sei la stessa tipa dell'altra volta o un'altra ha avuto un altro più episodio violento ieri sera però scuola quindi forse sia la stessa bambina ma è vero lui in tutto questo era tipo un avvocato quindi qua infatti c'è una segretaria arrabbiata che però insomma l'ha provata a ammazzare quindi sembra quasi che la segretaria sia questa qui che hanno ricoverato che ha attacchi di violenza incredibile ha provato pure a uccidere lui bisognerà capire se queste cose sono riferite a noi o no però torneremo in questa stanza quando rifaremo questo livello sicuramente ragazzi ok carichiamoci la velocità ragazzi che qui ci sarà il delirio secondo me il boss potrebbe essere la nostra amata infermiera gigante nuovi extra sbloccati va bene così ok molto bene ok la saluta ha funzionato fantastico good luck non promette bene quel good luck ragazzi ah che figata non immaginavo ci doveva essere lo scontro finale ok dai ok dobbiamo andare sempre là aspetta ragazzi presa siringhietta sus ma dobbiamo andare avanti così ok l'avrei colpita però non so ma non li posso colpire che ce lo fa la siringa in mano scusami allora ragazzi a parte il fatto che siamo morti in questo livello quantitativo di volte imbarazzante abbiamo superato secondo me le 50 che erano del livello dei tizi con la maschera a livello di boss fight finale questa è una delle peggiori perché se non ci morivo tipo 50 volte non capivo come si faceva vi faccio vedere tu le devi stannare colpirle e lei cadendo fa danno a lei ma il gioco non te lo spiega io prima di accorgermi di questo ragazzi ci sono morto penso minimo una ventina di volte però ragazzi non funziona tantissimo questa boss fight ve lo dico sinceramente dire che in intuitiva è proprio un complimento ragazzi non è intuitiva per niente questa boss fight vediamo un po' se bastano 4 4 bastano ragazzi 4 bastano ripeto l'idea sarebbe anche carina però è poco intuitivo perché io un sacco di volte infatti morivo per l'ocoramento morivo perché durava infinitamente questo livello perché se tu non la colpisci tu vai avanti in questa strada infinita e io arrivavo tipo dopo 5-6 minuti a morire e dico ok ma che devo fare io poi a forza di morire ho visto rotolare un cadavere a un certo punto ho visto che lei era danneggiata e dico no ve prego non mi dite che io le devo stannare fargliele cadere nella linea sua e così si danneggia ragazzi è un po' troppo molto bella sta scena che lui usa i poteri e come dire le distrugge molto bello allora qui dobbiamo correre ragazzi mi sa proprio di quelle corse pazzesche assurde ragazzi mi sa eh si vabbè ok vabbè ragazzi io penso 76 morti ragazzi GG però ho preso B ragazzi sono troppo forte 76 morti ma ho preso B poi ne parliamo ragazzi adesso farò un commentino finale su questo livello siamo a livello 14 non so poi quanto conti livello in realtà poi vabbè forse più livelli fai più vite c'hai può essere pure lui ci insegue nei finali di tutti i livelli a sto giro ha lasciato tutto in mano alle infermiere ma non è finita bene Mara che ti dici? stai diventando molto opportunista mortale ah non è venuto da noi perché l'ho occupato a fare pose sus che scopriremo in futuro ok non succederà più che ti lascerò da solo vabbè allora grazie a voi due forze maligne si stanno muovendo stai insomma stai interrompendo il mio business non posso tollerare questa insolenza lascialo fare ti vuole solamente distrarre e perché sta perdendo presto l'anello sarà mio ve l'ho detto che pure Beers secondo me ce lo vuole mettere dove non batte il sole ragazzi io ve lo dico allora io potenzierei assolutamente questo ragazzi questo è troppo forte ragazzi cioè questo se vogliamo prendere S ci serve questo maxato proprio easy portiamo questo al massimo assolutamente questo ci servirà tantissimo secondo me guarda che bello questo coniglietto bene molto bene il livello in sé non sarebbe neanche malvagio però secondo me è un downgrade rispetto agli ultimi due le infermiere per carità il livello di design ovvio 10 su 10 top gnagne waifu quello che vi pare però sono non gestite benissimo perché loro sono invisibili sono tremendamente veloci secondo me loro hanno pensato di mettere un nemico così sus ma non hanno pensato che tu non puoi switchare le abilità con facilità secondo me questo livello sarebbe stato molto più divertente se tu potevi switchare le abilità istantaneamente premendo un tasto tipo che ne so destro del mouse se voi ci riuscite ragazzi ditemelo se io cammino corro o uso un'altra abilità non posso switchare in un'altra per fare una combo perché nel livello parte 2 lì dovresti stannarle e poi correre ma non lo puoi fare non puoi avere pure l'abilità che ti prendono le gemmine dovresti switchare con l'altra ma non lo puoi fare perché non le puoi fare mentre corri e poi la boss fight finale ve lo dico sinceramente la peggiore di tutto il gioco a mani basse è brutta quasi quanto quella di The Watcher cioè l'idea che tu stai sulle automunanze che corri ok fichissimo a livello di design ok io ripeto ragazzi sono morto un sacco di volte ma a culo io mi sono accorto che il cadavere della tipa rozzolare la colpiva altrimenti io sarei rimasto in quella strada infinita ore quello è un peccato nel complesso questi due livelli rimangono i miei preferiti questo qui dell'infermiere è quasi a livello dei Watcher e con il livello dei Watcher intendo un livello che avrebbe del potenziale ma è stupidamente stupido per delle mentalità che lo rendono ancora più brutto e quindi un po' mi preoccupo perché se la curva invece di salire adesso cala ha messo il livello del coniglietto che c'è sta qua è un po' baggoso non lo so lo vedo grezzo questo livello ecco la parte più bella del livello era veramente stare seduti insieme ai Watcher che guarda caso sono messi nello stesso livello vedete che c'è un collegamento e guardare le tipe che ballavano quello forse è la parte più divertente del livello detto questo che cosa con voi e ci vedo nel prossimo episodio ooooh grazie a tutti Grazie a tutti.